ciao a tutti e benvenuti nel mio canale e bentornati nel mio canale oggi è la seconda reazione della violonata passiamo subito alla reazione dei nuovi singoli dei 1x no diggible una società di לק работare nel mio canale, 15 heaviesto maschio già ver freestyle in Versano seconda se le giosti non si comunque giusti Sì 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 Sì